Il Cran è sopra di te e la polvere alzata dalle sue ali nere ti entra negli occhi e nel naso e ti fa mancare il respiro. Ora il mostro attacca, devi ucciderlo assolutamente. A causa della polvere devi togliere un punto di combattività. Cran, combattività 16, resistenza 25. Se vinci, puoi scegliere tra esaminare il cadavere del Cran, andando al Dragone, o continuare lungo il sentiero verso est, scegliendo il leone.